Ciao, sono Alessandro e dal giorno del mio trentesimo compleanno sto lavorando e sto acquisendo competenze presso l'Ufficio Comunicazione del Comune di San Donato. Come ho fatto? Tramite il bando di formazione e lavoro rivolto a noi giovani. Ciao, sono Chiara, da tre anni mi occupo dei sistemi informatici e anch'io sono entrata in Comune dopo un anno di formazione e lavoro. Ciao, sono Diego, ho 28 anni e lavoro per una comunicazione più efficace e dinamica. Ciao, sono Miriam, ho 29 anni e lavoro alle risorse umane del Comune da tre anni. Si tratta di un'opportunità di crescita personale e professionale unica. Cosa aspetti? Lavora con noi! Grazie per la visione!